Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con una brevissima lezione di ciò che ho scoperto. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi al Padre Yehawah, nel nome di suo figlio Yehawah Shai, il nostro re salvatore e rendentore. E nel nome dello Spirito Santo, Rukah Kodash, e voglio dare i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. I miei saluti agli eletti della Casa di Israele, a coloro che stanno lavorando nella vinia in questi ultimi giorni e a coloro che con sincerità cercano questa verità. Beh, questa lezione dovrebbe essere breve perché è da un bel po' che cercavo di capire perché vedete, questo sito che vedete qui, la blueletterbybu.org, è uno strumento davvero fortissimo, ok? che i nostri apostoli e anziani ci hanno insegnato ad usare per cercare le radici delle parole, ok? Le parole in ebraico, ok? In greco, come sono scritte nei manoscritti antichi, ok? Per esempio. Allora, il motivo che vi faccio vedere è perché sono riuscito finalmente a capire come tradurre la parola, ok? In lingua italiana, che prima non lo sapevo fare e l'applicazione che sto usando è la Google Chrome, ok? Basta installare Google Chrome a coloro che usano l'iPhone, ok? E sì, sicuramente sul telefono avete anche già Google Translate, ok? Perciò si va in questo sito, blueletterbybu, e vi faccio vedere velocemente come si usa. Per esempio, andiamo a prendere il libro di Genesi, ok? Ecco qui. E scriviamo, per esempio, Gen, ok? Sto scrivendo in inglese, Gen. Scrivo 1. Dico vai. E qui mi porta nel libro di Genesi, ok? Ecco qui. Vi fa vedere il versetto 1, versetto 2, versetto 3. E c'è dei strumenti molto importanti a questo sito qui. A parte che hanno cambiato molte cose, visto che ultimamente stiamo scoprendo la verità. E hanno dovuto iniziare a cambiare cose. Io personalmente sono da un anno in questa verità, più o meno. In questo breve tempo ho visto cambiare un po' di cose, perché vogliono sempre nascondere la verità. Dunque, è sempre uno strumento molto importante da usare, perché non riescono a cambiare tutto. E coloro che hanno lo spirito di Yehovah Shem Yehovah Shai, li guiderà e li farà capire quando qualcosa è sbagliato. Per esempio, qui è Genesi, il primo capitolo e il primo versetto. E io schiaccio qui sulla Tools, ok? E vedete, mi porta nel testo massoretico, ok? Come è scritto nel testo massoretico, che questo sarebbe un ebraico moderno, ok? Mescolato tra Germania, Germanica, Slavonica e la Babilonia Antica e Yiddish, ok? Ora andiamo qui. E qui vedete, ogni parola, anzi, quello che volevo farvi vedere proprio che ho scoperto, che mi sta rendendo davvero molto felice, così riesco a fare le lezioni con questo sito qui. Vedete, usando questa applicazione, che è la Google Chrome, ok? Si viene qui e si schiaccia questo trattino e si va giù e si vede dove c'è scritto Translate, traduzione, ok? Si schiaccia quello. Io l'ho già impostato nella lingua italiana. E quando vedete qui, vuol dire che mi sta traducendo. Se io lo tocco adesso, chiede in che lingua tradurre, da inglese a italiano, ok? Bene, canso. Vedete, è tutto ora tradotto in italiano. In principio, Dio creò il cielo e la terra, ok? Perciò, è importante che noi andiamo a vedere le parole. Come vi avevo spiegato già, ho fatto le lezioni sul libro di Genesi, per farvi capire. Ed è molto importante, perché vi ho spiegato che, all'inizio, non è stato proprio il Padre Dio, Yahawah, come lo conosciamo, a costruire tutto. Lui ha dato i progetti in mano al suo figlio, assieme ai degli angeli, ok? Che sono i spiriti degli eletti, ok? Hanno creato assieme al suo figlio Yahawashai. Perciò, se venite qui, la parola Dio, e cliccate questo numero a fianco, H430, che clicchiamo ora, ok, vi porterà, vi porterà qui, ok? Anzi, ora andiamo, faccio la stessa cosa che ho fatto prima, per tradurre, e vado a translate, e mi traduce la pagina. E vedete, qui, vi dice, andate, vi fa vedere il significato. Qui hanno aggiunto Dio, Dio, Giudice, Dea, Grande. Vedete, tutte queste cose qui sono cose che hanno aggiunto. Angeli, divino. Dunque, venite qui e vedete che quello che sta dicendo è plurale, ok? Questa parola, vedete, vedete, ve lo dice anche qui che è plurale. È la plurale di questo. È la parola giusta, perché nell'ebraico antico non c'è la E e O, ok? Sarebbe Allah Hayyam, Allah Hayyam. E quando vedete questo Iyam, alla fine, vi fa vedere che è plurale. Se è singolare, sarebbe Allah, ok? Ecco perché gli islamici pregano Allah. Allah vuol dire potere, ok? Vuol dire potere. E vedete qui, vi dice, governanti, giudici, quelli divini, ok? E vedete, se venete qui, vi dirà che è plurale di H433, che è la parola Allah, ok? Ma loro hanno messo Elohim, che questa parola non vuol dire niente, ok? Questo è il nuovo ebraico moderno, ok? Che hanno cambiato le parole. Dei, vedete, nel senso ordinario, ma specificamente usato al plurale così, ok? Eccellente, dei, grandi, giudici, potente. La parola è potere, ok? I poteri, i dei, ok? I poteri. E qui riuscite a vedere, ok? Il testo massoretico, ok? Perciò, per esempio, se andiamo a vedere, magari, il libro di Matteo, 1, ok? Libro di Matteo, capitolo 1. Ok, qui dice, anzi, traduciamo. Don, don, ok? E lo traduce in italiano, perché questo strumento è lo strumento più grande che noi usiamo per capire alla pienezza le scritture. Dice, il libro della generazione di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, ok? Se veniamo qui, e, come sempre, vi fa vedere ogni parola, come è scritto, perché il Nuovo Testamento è stato tradotto dal greco. Ecco perché vedete, è scritto in greco, ma il Vecchio Testamento è dall'ebraico, ok? Perciò, se vedete, se venite qui, della generazione, la parola generazione, andiamo a cliccare, ok? Vi fa vedere cosa vuol dire, ok? Ora andiamo a tradurre. Ok, vedete, dice generazione naturale, natura, ok? Perciò, Yahawashai non è nato dai spiriti o chissà cosa. Dice le sue generazioni, quando parla di generazione, parla di cose naturali, vedete? Fonte e origine. Un libro del proprio lineaggio, cioè in cui sono enumerati i suoi antenati o progene, ok? Usato di nascita, natività, ok? Di cioè che segue l'origine, vale a dire esistenza, vita. È davvero importante che vuoi per capire. E poi ci sono tutte le informazioni che volete, ok? È molto importante che usate questo strumento. Questo strumento è davvero potente per capire le scritture. E poi, visto che le scritture in italiano sono così tradotte per nascondere la verità, ok? Per esempio, se andiamo nel libro di Malachia. Andiamo a vedere. Ok, qui andiamo a fare la traduzione veloce. e dice Vedete? Questa traduzione sarebbe la traduzione più perfetta. Ma io demolirò e richiamerò il confine della malvagità e il popolo contro il quale l'Eterno è indignato per sempre. Ma se leggete dalle scritture è difficile che vedete una traduzione che vi dice la confine della malvagità che vi dice che sono proprio loro i malvagi, ok? Detto questo vi faccio capire che è molto importante usare questa Blue Letter Bible, ok? Io avrei anche la copia fisica che uso per lo studio, ok? Dunque, venite qui su questo sito blueletterbible.org Ok? E qui è una macchina da guerra per capire le radici delle parole, ok? Le radici delle parole. Per esempio se metto il libro di Genesi Il libro di Genesi era sette? No, nove Andiamo a vedere Andiamo a vedere Volevo farvi Ok Qui è la storia di quando dopo l'illuvione che Noè era felice e ha bevuto un po' di vino della sua vigna ed è si è addumentato nudo il suo figlio Ham ha visto e e si ha chiamato anzi vediamo subito la traduzione Translate Oh io sono davvero felice oggi per aver scoperto questa cosa qui e dice Egham il padre di Canaan vide la nudità di suo padre e lo riferì ai suoi due fratelli di fuori e Sam e Japheth presero una veste se la posarono su entrambe le spalle e tornarono dietro e coprirono la nudità del loro padre e le loro facce facce erano all'indietro e non videro la nudità del loro padre ok e Noè si svegliò dal suo vino e seppe cosa ha fatto il figlio minore e disse maledetto sia Canaan un servitore dei servi sarà per i suoi fratelli e vedete qui uno un amico mio mi aveva chiesto oggi ma come mai Noè ha maledetto il figlio solo perché ha visto la sua nudità infatti se voi venite qui che dice Ekham il padre di Canaan vide la nudità di suo padre se venite qui a utensili ok e venite a vedere la radice di vide anzi vedete il padre di Canaan veda ok questa è la parola veda non lo so perché lo ha tradutto sega qua andiamo a prendere questa parola e vediamo e dice ra ok andiamo alla traduzione e se venite qui vi fa vedere che spia vedete la parola era oltre vedere era spiare lui spiava ok lui spiava ok il suo padre era quello che è successo ha spiato suo padre perciò se venite alla traduzione vedete che ce ne sono altre parole che vi farà capire molto di più e vedete la parola vuol dire anche godere perciò vedeva percepire lui vedeva godeva spiando il suo padre la nudità di suo padre ecco perché ha preso la maledizione ma non ha preso lui è stato maledetto il suo figlio Kanan ok io spero che siete stati edificati con questo breve video per farvi vedere coloro che stanno usando l'iPhone scaricate Google Chrome ok da Google Chrome se avete anche Google Translate già scaricato basta venire sul trattino qui per tradurre qualsiasi libro e venite su Translate ok traduzione ok e scegliete che lingua ok da qui si sceglie in che lingua da a ok il mio è in inglese perché mi trovo bene la mia lingua e dunque questo è il sito blueletherbible.org e spero di lasciare uno link di questo video sotto la descrizione ok detto questo voglio dare tutti i lodi al padre Yahweh Bahashem Yahweh Shai Bahashem Rukah Aquadash Bracata Yahweh Bracata Yahweh Shai è quello che ho detto Bracata Yahweh e che sia benedetto il padre Yahweh e il figlio anche Yahweh Yahweh Shai ok i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great New Stone per avermi insegnato questa verità che è la pura verità e miei saluti agli eletti della Casa di Israele alla prossima Shalom all'on